Palazzo San Giacomo apre le sue porte a 300 nuovi cittadini che hanno acquisito la cittadinanza italiana per naturalizzazione, ius sanguinis e ai nati in Italia residenti sul territorio fino alla maggior età. Questa mattina, in sala giunta, l'assessore al lavoro Monica Buonanno, con il dirigente del servizio anagrafe Luigi Loffredo e l'assessore al diritto alla cittadinanza Laura Marmorale hanno dato il benvenuto ai nuovi cittadini italiani in un incontro sui diritti acquisiti con il conseguimento della cittadinanza. Oggi c'è il lieto evento, già la seconda volta, la seconda edizione, in cui il Comune di Napoli dà il benvenuto, proprio per volontà del sindaco e dell'assessore dell'amministrazione, a tutti i cittadini stranieri nati a Napoli che sono diventati, al complimento della maggior età, sono diventati cittadini italiani per essere appunto nati, cresciuti, aver frequentato le scuole e quindi inseriti nel tessuto sociale del Comune di Napoli. Al termine dell'incontro, i nuovi cittadini hanno ricevuto la medaglietta della città in ricordo della giornata. La cittadinanza, come tutti sanno, è uno status che dà diritti e doveri. Quindi noi affrontiamo il tema della cittadinanza ai neocittadini in modo formale, ma anche in modo sostanziale. Il piano formale e il piano sostanziale si equivalgono, perché se da un lato formalmente il cittadino ha la cittadinanza italiana, sul piano sostanziale acquisisce diritti importanti e altrettanti doveri importanti.